Musica Facciamo una manifestazione che piace, una manifestazione che riceve sempre l'applauso del pubblico perché le bande sono un po' nel cuore della nostra provincia. Fin da bambini siamo stati abituati nei paesi a vedere la banda municipale che nelle occasioni più importanti sfilava, suonava, cantava e portava allegria. E vorremmo che questa tradizione continuasse, tant'è che cerchiamo anche tramite i contributi della regione, della provincia e dei comuni di mantenere questa tradizione, di mantenere le scuole di chi vuole continuare su questa strada. Bisogna essere solidari con tutti quei, specialmente i giovani che si accodano alla banda e imparano e che capiscono che crescono nella banda e questo lo si fa anche con un semplice applauso quando partono e quando passano davanti ai nostri occhi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.